Un progetto d'insieme Federico Ferrandina qui a Matera con i Sodisti Lucani, tu uno spazio suggestivo, ecco come nasce il tutto, come è stato poi finalizzato questo progetto? Nasce appunto sul territorio, è un progetto d'insieme, hai detto bene, ma perché non è solo un progetto d'insieme tra di noi, è un progetto d'insieme con tutta l'antropologia della Basilicata che è stata l'ispirazione per questo lavoro e anche la sua forma, la sua morfologia, la sua pietra. Infatti il titolo Litosofia è una parola che abbiamo inventato per parlare un po' di questa saggezza della pietra, che sia la nostra conoscenza di questo territorio, ma anche la saggezza della pietra che forse ha qualcosa da insegnarci. Tecnicamente il progetto in che cosa consiste? Come è stato messo insieme? Tanti strumenti, tanti artisti, però poi bisogna, come si dice, collegare il tutto. Intanto questo progetto esiste grazie alla vittoria di un bando della fondazione Matera Basilicata 2019, questo progetto arrivò primo e grazie a questo progetto ci siamo riuniti in questi studi SINC in una residenza artistica che è durata un po' di mesi, dove ci sono stati vari momenti, quello della ricerca, quello della progettazione, quello della sperimentazione. Il primo progetto discografico interamente prodotto e realizzato dall'associazione Mater Solisti Lucani, che è stato il frutto di una grande sinergia tra altre professionalità e altre realtà del nostro territorio. Federico Ferrandina, con cui collaboriamo già da molto tempo, è stato prezioso per la sua ispirazione musicale, grazie alla professionalità di Angelo Cannarile e di tutti gli artisti che ruotano intorno a questa bellissima realtà.